Buona mattinata e buon weekend a tutti e anche oggi vi presenteremo degli ospiti davvero interessanti, tante le news, tanti gli argomenti che tratteremo, vero Claudia? Di cosa parleremo oggi? Ma certo, oggi parleremo di wedding, partiremo da questo argomento, insomma i segreti per l'organizzazione di un buon matrimonio, ma vedremo questo argomento anche sotto altra luce, cioè l'occupazione dei giovani, l'ingresso nel mondo del lavoro anche in un settore così conosciuto da poco possiamo dire, che viene dall'estero e però stiamo facendo nostro nella maniera migliore. Avremo due personaggi qui in studio, insomma poi ne parleremo con loro e poi il ricordo di Giuseppe Pacileo, celebre firma sportiva del mattino che ricorderemo qui in studio con grandi professionisti del settore e ancora lo spettacolo con la presentazione della Norma al Teatro San Carlo e naturalmente, Mariù, la bellezza e la cucina. La bellezza, lo spazio del cucinando con MMD, preparate gli ingredienti, preparate la testa e il cuore, accomodatevi e trascorriamo insieme due ripiacevoli con Mattina 9. La sigla tra pochissime. Mattina 9 è offerto da MD. Mattina 10 è un'ottima di 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 un' Grazie a tutti